100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Non è solo un problema di numeri o di noiose tabelline. La Commissione europea ha pubblicato le nuove previsioni economiche e, detto in soldoni, segnala un rallentamento per la ripresa in Europa e una crescita minore del previsto per l'Italia. Sono correzioni tutto sommato piccole, ma indicano comunque una tendenza che i decisori politici non devono sottovalutare. Bruxelles stima che per l'Eurozona la crescita sarà dell'1,7% e non dell'1,8% come previsto in un primo tempo. Motivo? Il rallentamento dell'economia mondiale e della Cina, soprattutto il rischio di deflazione che non è ancora stato debellato nonostante i bazooka della BCE e i focolai di guerra in Medio Oriente. In questo scenario non facilmente stabilizzabile rimane anche la guerra del petrolio, a colpi di ribassi del prezzo del Brent, che sta sconvolgendo gli equilibri interni all'OPEC e i rapporti fra gli stessi paesi arabi. Quanto all'Italia, l'esecutivo comunitario si aspetta che l'economia prenda velocità nel 2016 e nel 2017, grazie anche a un rafforzamento della domanda interna. Bruxelles prevede una crescita dell'1,4% nel 2016 e dell'1,3% nel 2017, mentre in un primo tempo si attendeva un aumento dello 0,1% superiore in entrambi gli anni. La Commissione ha anche corretto il dato di deficit, in peggio, e la stima passa così dal 2,3% al 2,5%. Quanto al debito, stima solo che calerà leggermente. Ciò che deve preoccupare di più è che l'Italia cresce meno degli altri competitor europei e soprattutto è l'unico paese dell'Eurozona per il quale il 2017 è dato in rallentamento rispetto all'anno precedente. Questi numeri, una volta di più, ci dicono che sarà decisivo acquisire il via libera di Bruxelles nella cosiddetta flessibilità nei conti pubblici, altrimenti un'ulteriore rigidità nel bilancio non aiuterebbe certo a ridare vitamine a un'economia così fragile. Grazie a tutti.